ciao benvenuti in questo nuovo video oggi siamo a Levico siamo appena arrivati ci sono diversi parcheggi sia a pagamento che non e ci incamminiamo per fare il sentiero della pace e girare intorno al lago abbiamo iniziato il sentiero la lunghezza è di 8 km 800 metri una durata di due ore e mezza il percorso e sposteggiamo il lago ed ora andiamo a vedere lo spettacolo della natura e del lago naturale qui di Levico musica 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 Eccoci a metà del percorso è una parte veramente bella siamo in mezzo alle montagne che scendono sul lago e ci sentiamo veramente a contatto con la natura è oh 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Proseguiamo, ormai siamo verso l'ultimo tratto che ci porterà all'arrivo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti